di quanto verranno vendute, di a quanto verranno vendute hanno un problema sostanziale di sicurezza per chi abita accanto, quindi io ho fatto già due denunce nella mia zona perché dopo il ghiaccio, non serviva il terremoto, è bastato il ghiaccio per far rompere dei muri via Garraluce dove abito io e sono proprio crollati fisicamente, quindi al di là di come si possano vendere, del prezzo da stabilire c'è un problema di sicurezza statica che va certamente prima di queste problematiche amministrative.